buongiorno viaggio di ritorno massa marittima prato 2 gradi 6 722 metri di dislivello la neve se ne sta andando ho aspettato me ieri l'altro per farsi vedere c'è vento tutto contro oggi per facilitare un po le cose comunque c'è il sole che è già tanto buona giornata a presto Grazie a tutti. Grazie a tutti.